Amici, tutto Venezia Sport e dei fuoricampo. Buon pomeriggio e ben ritrovati qui con voi Davide Marchiol per commentare l'ultima partita in ordine cronologico del Venezia che torna a casa da Bolzano con i tre punti. Per la prima volta Vanoli riesce a battere il Sud-Tirol, tra l'altro continuando un po' la serie di risultati positivi in Trentino, Alto Adige, perché il Venezia alla fine aveva ottenuto la prima vittoria sotto la gestione Javolvic proprio a Bolzano con un Kuisans che causò all'ultimo un autogol, sembra una vita fa, ma in realtà è l'anno scorso. Non è passato tantissimo tempo, poi Vanoli ottiene due sconfitte, tutti e due al penzo, tra l'altro. E adesso tornano tre punti per un Venezia che insomma deve un po' cambiare dopo quanto è successo al gennaio, però conferma ancora una volta, se non fosse stato chiaro già dalla partita contro il Parma, che la squadra mentalmente è strassu il pezzo, magari ha qualche qualità in meno adesso che ti fa gestire con un periodo di difficoltà alcuni francesi della gara, adesso andremo un po' ad analizzarla. Però, insomma, i mezzi ci sono assolutamente ancora e il Venezia torna a casa con tre punti in una partita molto sudata, un 3-0 che diciamo magari non rispecchia chiaramente quanto è successo, perché comunque il su tiro a tratti non si è fatto dispiacere, però alla fine insomma il Venezia ha fatto valere le sue qualità portando a casa tre punti molto molto importanti. Detto questo, prima di cominciare come sempre mi invito è quello di iscrivervi al canale, come sapete siamo una community che punta a coprire al meglio realtà magari meno considerate dei mass media nazionali, come può essere la serie B o tante piazze della metà destra della classifica in serie A, poi ovviamente in live ci dilunghiamo anche sulle big. Quindi se vi piace la nostra idea aiutateci, basta iscriversi che è gratis e se vi va condividete anche con chi conoscete e che ancora non ci conosce. Se siete già scritti ricordatevi il like, sezione commenti aperta per domande e considerazioni. Allora, ci sono un po' di cambi nell'undici iniziale, per quanto vanno le aveva detto non ci saranno cambi tattici che invece ci sono stati, ma sappiamo che il mister ogni tanto in conferenza stampa fa il burlone, mettiamola così. In porta Iorone in difesa che torna dal primo minuto a tre con Izzes, Svoboda e Sverko con Altare in panchina usato come arma nel secondo tempo perché il piano evidentemente inizialmente era di utilizzare Svoboda come play nell'ultima mezz'ora e quindi inserendo Altare. A gara in corso, devo dire, col senno di poi, inizialmente ci sono rimasto un attimo quando vi saltare in panca, però col senno di poi chiaramente il piano aveva decisamente una sua logica, come sapete Svoboda ce lo svelò Zanetti perché io non lo conoscevo ovviamente per le sue prestazioni in Austria, Svoboda nasce il centrocampista e Vanolilu ha sfruttato questa sua qualità oggi in cui mancano sia Lella che Tesman che Giajero. In mezzo al campo, quindi, tornano a fare i quinti, finalmente, Candela e Zampano con in cabina di regia Kofo D'Andersen, incursori, mezzale, centrocampisti aggiuntivi, chiamateli come vi pare, Busio e Biarkason, coppia all'attacco, Gitkia e poi Jampalo. Perché dico finalmente Zampano e Candela tornano a fare i quinti? Perché, soprattutto Zampano, da quinto è un'altra roba, dal terzino fa una fatica abbastanza importante nelle due fasi, probabilmente deve spendere troppe energie e perde un sacco di lucidità, soprattutto quando deve partire tanto in basso. Da quinto è più cosa sua, perché aiutato da un braccetto e da una mezzala, evidentemente riesce a portare qualche sgroppato più efficace, tant'è che subito suo l'assist per il gol di Poglian Palo, che sblocca il match e te lo mette un po' sulla tua carreggiata, perché sappiamo che il sud è squadra tignosa, che sa chiudersi bene, che sa mettere la partita sulla rubidità, cosa che il Venezia magari, cosa in cui il Venezia di solito non ha mostrato grande invece esperienza, e quindi sbloccarla subito era importante per evitare di metterla invece sui canali che preferisce il Sultirol, che comunque ha un Casiraghi che tra le linee ti può sempre inventare qualcosa e che comunque lì davanti ha la fisicità di Merkai prima e di Odokov poi per provare a farti male, con qualche anche spiovente in ripartenza rapida. Devo dire che quindi il Venezia l'ha gestita molto molto bene, ha avuto il difetto di non riuscire a trovare l'azione giusta per chiuderla, perché Gitkier in quella posizione continua a parermi molto molto isolato purtroppo, fa fatica un po' a trovare palloni utili, perché spesso viene cercato con lancio lungo invece di Joel Poglian Palo o comunque gli esterni, servirebbero tanti cross per riuscire a servire bene entrambi le due punte pesanti come possono essere Joel e Gitkier, e oggi di cross si ne sono arrivati ma non particolarmente tanti, anche perché in mezzo diciamo ti mancava quel giocatore capace di metterti il filtro, magari l'apertura giusta al momento giusto per magari lanciare bene uno dei due esterni, diciamo il centro che ha fatto molto bene, capiamoci, però ecco ti mancavano un po' le qualità giuste per riuscire a supportare al meglio due punte così e il risultato è che Gitkier resta un po' un'ombra durante la partita, diciamo che fa bene il suo lavoro di sportellate, però poco poco altro oggettivamente. Busio quest'anno finalmente fa capire perché il Venezia si è andato a spendere 6 milioni di euro quella volta, chiaro, probabilmente sono stati comunque tantissimi soldi, capiamoci, però fa vedere insomma che è un giocatore dal motore importante, ha corso anche oggi tutta la partita, ha messo un paio di imbucate per le sovrapposizioni di Zampano molto interessanti, e dall'altro l'altro Biarka su un fresco di rinnovo si è fatto apprezzare finché ha avuto fiato, poi verso l'ora di gioco si è visto che ha iniziato ad essere un po' appannato, ha fatto molto bene anche Coppo D'Anderson che lo rivediamo dopo tanto tempo e non ha palesato ruggine. Oggi la situazione non era facile in mezzo al campo, sei senza tre giocatori e speriamo che per il ginocchio di Lella non sia nulla di grave perché hai già perso un elemento a gennaio senza poterlo sostituire, perdere anche Lella ti accorcierebbe ulteriormente una coperta che sì c'è ma non è enorme. Però intanto chi c'è stato oggi si è fatto valere assolutamente. Stutz Tirol che però tra fine primo tempo e inizio secondo tempo ti ha fatto capire che insomma la partita era tutt'altro che scontata e lì devo dire molto bene dietro in Venezia, Izzes ha si disimpegnato bene nonostante i tre mesi fuori, esattamente come anche Svoboda dopo tanto tempo fuori, adesso sta regalando parità da primo minuto, già col Parma si era fatto vedere, oggi sempre attento e puntuale, Sverco anche in questo suo ruolo di braccetto probabilmente si trova al meglio. Quindi devo dire note negative oggi poche, poche. Gitkier ma non per colpe sue ma perché staticamente adesso il Venezia sta cercando un po' di adattarsi all'addio di Johnson e chiaramente quindi deve un attimino anche lui un po' sacrificarsi in questa fase di transizione. Come dicevo l'arma che usa Vannoli a metà ripresa è quella di mandare Svoboda a fare il play con Altare dietro a fare da braccetto di destra. Un'arma devo dire che fa capire che comunque Vannoli li conosce molto bene i suoi giocatori, ha subito approfittato dell'ambivalenza dell'austriaco per riuscire a gestire una situazione appunto non semplicissima con le assenze. Poi nel finale il Venezia fa valere un po' il contropiede che è un po' l'arma mancata in quella chiusura di primo tempo inizio secondo tempo anche perché appunto non avevi gli elementi giustissimi per farlo e Pierini entra all'ora di gioco e ci mette un attimino a entrare in partita nel modo giusto però poi appena entra nel ritmo si fa sentire. Per quanto comunque la ripartenza nasca di primis da un errore del sutilo che ci sta però poi anche una gran giocata di Ellersen che con un tocco salta l'ultimo uomo e l'Izzampano che segue riceve l'assist e mette un gol con le assist oggi per Explosinone che finalmente fa capire perché può essere importante per questa squadra. Ripeto colpe sue relativamente nel periodo in questi ultimi mesi è un quinto è un quinto da qua da da quarto di difesa fa più fatica è un quinto e lì deve giocare. Credo che al passaggio alla difesa 3 soprattutto ora che rientrano Tesman dalla squalifica, Gaiolo dall'infortunio credo che sarà una roba definitiva francamente perché il Venezia adesso senza uno dei due fantasisti si esprime al meglio e ha la coperta giusta per coprire probabilmente di nuovo un 3-5-2 come era un po' l'anno scorso. Con il 4-4-2 probabilmente adatti un po' troppi elementi e ti manca un po' quell'altra arma di qualità come vi dicevo contro il Parma insieme a Pierini per riuscire a mettere la palla giusta negli ultimi 30 metri. E qui niente 3-0 risultato molto rotondo che forse punisce anche oltre le sue difficoltà il Sud Tirol però ovviamente noi ci prendiamo i tre punti ora ci sarà il Modena per la giornata arancione verde al Penzo Modena riduce dal pareggio 1-1 col Cosenza e che ha un po' rallentato ma che resta comunque squadra in lotta per i playoff. Venezia che resta agganciato al trenino del secondo posto un punto in mezzo tra Cremonese e Como come vi dicevo nell'altro scorso video credo che il terzetto di testa abbia qualche qualità in più. Noi abbiamo però veramente una mentalità rucciosa e di ferro che non è stata scalfita nelle ultime settimane con Vanoli che continua ad essere veramente un martello implacabile. Sarà una bella lotta tra Parma, Cremonese, Como, Venezia e Palermo il Parma diciamo un po' staccato però devo dire che si sta delineando quali saranno le squadre che competeranno per i primi due posti perché Cittadella oggi quarta sconfitta di fila ha avuto questo periodo di picco massimo adesso sembra andato un po' incalando ecco Cittadella e Catanzaro sono un po' più arretrate che possono rientrare ancora in questa corsa ma adesso devono farlo un po' dalla finestra. Quindi ragazzi per me questo è tutto non credo di aver saltato nulla se avete qualche altra domanda nei commenti come sempre potete scrivere o io o addirittura altri tifosi perché adesso fortunatamente quando sia in tanti poi la community si diventa ancora più vive e ci si palleggia anche nei commenti quindi se avete ulteriori questioni scrivetene sotto io vi saluto vi ringrazio e vi lascio con gli altri contenuti al nostro canale un saluto alla prossima ciao